Oh, ma come tu ti sei gonciato? Oh Daniela, secondo te, in Italia se tu vuoi essere qualcuno, o tu fai l'allenatore di calcio, o tu fai il virologo, e l'Europa è vinto domenica, allora sai che fai io? E fai il virologo! Capito Nina, eh? Eh? Ma lo sai? Oh, e sono di nulla, e ho ben trovato la cura del Covid. Sì, ecco, ho trovato il vaccino. Ma che vaccino, le roba antiche, il vaccino, e la cura del cetriolo, la cura del cetriolo, lo puoi sapere? Ma tu fai? Chi lo porta il virus a giro? Il pepistrello. E allora, te, con il retino, e tu l'acchiappi, e dopo, col cetriolo, tum, 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 e tu ne le batti forte nelle alette, e la smette di fare il biscaro, e non vola più attaccare il virus alla gente. Ecco, capito? Eh, 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 e poi? E poi si mangia il cetriolo. Oh! E poi? E poi? E poi? Grazie a tutti